Allora Lorenzo, rimaniamo nell'ambito della musica perché, come sempre, apriamo la puntata con l'oroscopo musicale curato dall'amica Silvia Pagni. Oggi c'è un grandissimo ottore che ci ha lasciato qualche tempo fa, ma che sicuramente tutti ricordiamo. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Sempre sotto il segno del toro nasceva un attore italiano simbolo di un'era intramontabile. Gino Cervi Figlio del giornalista Antonio Cervi, critico teatrale del Resto del Carlino e di mamma Angela. Fin da piccolo Gino Cervi si appassiona del teatro e con suo papà assisteva spesso a vari spettacoli teatrali. Nel 1924 inizia a fianco alla celebre attrice Alda Borelli, nella Vergine Folle, grazie alla sua grande passione, alla bella presenza e ai suoi modi signorili. Nel 1925 fu chiamato come primo attore giovane da Luigi Pirandello, nella Compagnia del Teatro d'Arte di Roma, accanto ai primi attori Marta Abba, Lamberto Picasso e Ruggero Ruggeri, interpretando successi come sei personaggi in cerca d'autore nella parte del figlio, opera con cui andò in tournée a Parigi, Londra, Basilea e Berlino. Ottenne rapidamente un grande successo che nel giro di dieci anni Gino Cervi lavorò con le più note compagnie italiane. Fu anche interprete di Otello e di cui doppierà anche il personaggio di Amleto, nella versione cinematografica con protagonista Laurence Olivier. Nel 1938, insieme ad Andreina Pagnani, Paolo Stoppa e Rina Morelli, costituì la compagnia semistabile del Teatro Eliseo di Roma, di cui assumerà la direzione nel 1939. Il regista Alessandro Blasetti scrittura Gino Cervi per renderlo protagonista di una fortunata serie di film storici, quali Ettore Fieramosca, Un'avventura di Salvatore Rosa e La Corona di Ferro, e dei film Quattro passi fra le nuvole, La regina di Navarro, e con Anna Magnani in Quartetto pazzo. E negli anni 50 che ottiene uno straordinario successo con l'interpretazione della fortunatissima serie di film dedicata ai personaggi letterari di Giovannino Guareschi, in cui interpretò il sindaco comunista Giuseppe Bottazzi, detto Peppone. Il film della serie ne sono cinque. Il primo, il famosissimo Don Camillo, dove Gino Cervi era il sindaco Peppone e Fernandel recitava la parte di Don Camillo. Gino Cervi e Fernandel diventero grandi amici, a tal punto che, quando morì Fernandel durante la registrazione dell'ultima saga, Gino Cervi si rifiutò di proseguire l'opera. Il successo della serie di Don Camillo rivelò le doti di Cervi anche come attore brillante nel genere della commedia. Così lo scritturarono negli anni 60 per i seguenti film. Il Coraggio, 1955, Guardia, Guardia Scelta, Brigadiere Maresciallo del 56, Gli Ani Ruggenti, 1962 e Gli Onorevoli, 1963. A metà degli anni 60 fu la televisione a dargli una rinnovata notorietà. Dal 1964 al 1972 Cervi fu l'impeccabile interprete della serie poliziesca Le inchieste del commissario Maigret, ispirata ai romanzi dello scrittore belga George Simon. Al fianco della storica compagna d'arte Andreina Pagnani, tratteggiò con arguzia e bonarietà il celeberrimo personaggio del commissario parigino dal fiuto infallibile, amante della casa e della buona cucina. Lo stesso autore Simonon considerava quella di Cervi tra le migliori interpretazioni del personaggio di Maigret. Le sue ultime apparizioni sono in alcuni caroselli per un famoso Brandy, che aveva pubblicizzato per vari anni con un motto che a quell'epoca era diventato molto famoso e faceva così «Vecchia Romagna, etichetta nera, il Brandy che crea un'atmosfera». E adesso alcune citazioni di Gino Cervi. La prima è questa «La più diffusa malattia degli occhi è l'amore a prima vista». La seconda citazione «È brutto affare la vecchiaia, si è di ingombro a tutti». Aveva ragione quel tale che diceva «I vecchi bisognerebbe ammazzarli da piccoli». Nel 1972 si ritira dalle scene e muore per un edema polmonare all'età di 72 anni. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto in tantissimi domani. Un grande ciao da me, Silvia Pagni.